Grazie a Ciderweb, un salutone dalla bacia e bentornati nella UH Christmas! Prima che inizi il video, come sempre, vi ricordo che questa serie è una collaborazione fra Multicore Network e Biosphere Studios di lasciare un like per sostenere noi la serie del canale, iscrivetevi se cosa l'avete fatto, lasciarci un commentino dandoci dei consigli su quello che abbiamo dato quest'oggi. E in più vi ricordo che in descrizione trovate il link al gruppo Telegram e al canale Instagram per rimanere sempre aggiornati su due nuovi video. Detto ciò, ragazzacci, auguri! Buon Natale! Domani è Natale! Aieee! Ci sono tutti gli Elfi contenti che sono... È Natale, guarda là come sono contenti! Anche noi siamo contenti, saltellano, bravi, bravi, bravi! Nello scorso episodio, finalmente siamo usciti allo scoperto e abbiamo iniziato a rimetterci in sesto, se ti vuole. Chissà cosa ci aspetterà in questo episodio, lo scopriremo solo dopo la sigla. E allora la do al nabbo? È dalla me, vai, sì. Vai, vai, piglia, piglia! Ecco, pigliala tutta. Anche se di regola ti conviene conservarla da qualche parte. Sì, no, infatti ora sto facendo una cassa per togliermi lo schifo, se conta. Se ci fossero tre lingotti d'oro si potrebbe fare... Si potrebbe fare un'altra cosa. Chi si è inculato una mela? Io per me. Perfetto. Non volevo, non volevo. Io devo passare un po' di merda che ho nell'inventare. Ma come ti sbagli? La cacca dell'inventare. Vabbè, adesso io smonto alberi. No, io voglio capire dove siamo. Attenzione, attenzione, guarda come la risolvo, guarda come la risolvo, guarda, 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 pepea, guarda come mi stanno bene. Mela! Mela! Ma Milo, perfetto? Mela! Eh, no, perché erano i due della mela d'oro, anzi se ne prendo ora vado a sei. Mi serve un pezzo di oro. Ho sentito una scureggia. Cosa? È il mio telefono. Sì, sì, sì. Se vuole la mela d'oro, a me la serve. A me, a me, a me. A Milo, a Milo. Che qui è iniziata a fare notte, è normale, sì. È un problema. Raga, vado a vedere la mappa, così cerchiamo di capire dove siamo. Esatto. Tornando, Madde. Ah, no, basta vedere dal libro. Basta vedere dal libro. Un airdrop, così, a caso. Dove? Dove? Qui. Power, stringhe, ferro. Porca puttana! Chocolate. Eh, il chocolate è buono. Oh, ma questo non si può aprire? No. Che cazzo è? Ah, è bagatissimo. È bagatissimo. È bagatissimo. È bagatissimo. È bagatissimo. Lascio un po' di legno qua per chi lo vuole. Perché non ho sentito il botto. Le frecce, vabbè, la ghiaia la tengo io per il momento. No, ragazzi, la cioccolata calda, questa qua. Prendetela. Io c'ho un diamante, eh. Prendete la cioccolata calda. Ma io ho un botto di cibo. Io ho una mela. Io ne ho una. Prendete la cioccolata calda. No, la nostra unica speranza sono gli airdrop, ragazzi. Ridillo, ridillo di nuovo, ti prego. Prendete la cioccolata calda. Prendissimo. Perché è? Vuoi la cioccolata calda? Caldissima. Sì, sì. No, un altro? Dove? Un altro airdrop? No, via! Ma prima qualcuno ce li sta mandando. Oh! Non lo amo! Vabbè. Aiuto. Adesso qua, vabbè, io ve le prendo delle... Progettile, unbreaking. Fece! Golden Carrot, questa la prendo. Progettile hunting. Questa la prendo. Cioccolata calda calda. Oh, la caccia di livelli. Oh, Progettile Protection, unbreaking 1. Non è male. Unbreaking 1? Unbreaking 1. E l'importante Splash of Speed 2, le tengo io o le tenete voi le speed? O ne volete una testa? No, per me tienile perché io non le so usare quelle robe lì. Le uso le testa quando c'è bisogno. Ora va bene l'airdrop, però bisogna trovare ora qualcuno. Fede? Ora sì, bisogna andare verso tipo il centro. Quanto ferro hai? Io? Sì. Zero. Qualcuno ha del ferro? No. Lapislazzuli o... Zero. L'ho usato tutto per fare delle erbature. Lapislazzuli ne ho io. Vabbè, regale, l'enderfalle non le vuole nessuno. Anch'io ho dell'apislazzuli. Io ne ho tre. Io ne ho quattro. Io l'enderfalle ce ne ho tre. Vabbè, c'è un pin di enderfalle. Però ferro ce n'ho uno, ferro ce n'ho uno io. Posso fare delle frecce? Posso fare delle frecce? No, ragazzi, qualcuno può farmi un arco? Non ce ne possiamo, perché non c'è. No, perché io, ragazzi... Ce l'ho io le stringhe. Faccio schifo da vicino. Mino. Ah, idem. Mino. Mino. Eh, dimmi. Vieni. Ok. Un po' di frecce. Uh! E andiamo. E si va a colpire. Dai. Ne potrei fare anche un altro. Qualcuno vuole un altro arco? Eh, a me che c'ho un bordello di frecce. Mino, tieni ne qualcuna. Allora. Vieni, va. Dammi, 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 gande. Ok. Arco fatto. Grazie. Dai, raga, ci stiamo rifacendo. Eh, no. Un pochettino alla volta. Ora ci vorrebbe di... Trovare... Porca... Ok. È la fine. A posto. No, non è molto utile l'elitra in una cascina. Ehi, però sei molto difficile da colpire. Sì, sono d'accordo, però... Ok, dove andiamo, raga? Che io non so dove dobbiamo andare. Tutti quanti con l'elitra... Ah, no, si sono passati l'elitra, secondo me. Ok. Sì, sì, sì. Per fattura. Tipo la casa. Eh, no, perché è importantissimo fare l'acidimento. Sì, sì. Sì, sì. Sì, è proprio la parte... Eh, beh, però ti fai cagare addosso gli altri, perché ovviamente pensano tutti la stessa cosa, però... Esatto. Si sa mai... Qui dove dobbiamo andare, che io... C'è una pecora? Eh... C'era una pecora. Eh, allora, prendiamo un attimo il libro, vediamo un po'. Eh, prendi la mappa, oi. Vediamo un po'. Eh... Allora, con i caramellati... Anzi, no, il centro mappa è a 163, meno 77. Sì, ma dovremmo andare verso dei posti belli. Raga, dobbiamo assolutamente andare in quella direzione. Dove? Uh, drop! Drop, l'ho visto, l'ho visto, l'ho visto. Dov'è? Cosa? Chiamante! Oh! Dov'è? Prendilo! La cioccolata calda. La cioccolata calda. Cos'è? Perché gli spawna delle cose? No, bellissimo! Fantastico! Cosa? Ci fanno spawnare i cavalli. I vacalli. I vacalli. I vacalli. La cioccolata calda per i cavalli. Perché fa spawnare i cavalli? La cioccolata calda. Ne sta morendo uno. Ma è morto. Ma è morto anche così. No, è ancora io. Posso un pollo. No, la cioccolata. Se no la prendo io, la cioccolata. Prendi la cioccolata. Ma dove cazzo la vedi la cioccolata? Ma ragazzi, ma da 6. Da 6 questa cioccolata qui. Prendetela. Ma se... Ma mi dà la zuppetta vuota. Ma che me ne faccio la zuppetta vuota? Prendete la cioccolata. Ma io c'ho la cioccolata. La cioccolata calda. Ma davvero, non la vedete? Io non la vedo. Allora, raga. Io non vedo cioccolata. Io ho due diamanti. Due diamanti. Puoi pagare la spada. Eh sì, la spada è la cosa più utile. Eh, perché li potremmo tenere per un provabile chance in table, ma ci serve l'ossiriana. Eh, no, raga. Andiamo direttamente con i diamanti. Eh, con la spada. Vai. Mi faccio la spada? Sì. Sì, sì, io voto per il sì. Però non morire. Non morire. Non la dare a dire. Non morire. Esatto. Io amato cavallo. Mortino, poverino, poverino. No, perché così mi faccio le gambe di... Ok, spada in diamanti è fatta. Attenti, c'è un creeper bianco. Ospè, l'ammazzito da lontano. Dove cazzo lo vedi il creeper bianco? Là, là, là. No, non sprecare, non sprecare, non sprecare. Non sprecare le frecce. Gli vado io con lo scudo. Qui, attenzione, attenzione. Bravo, creeper. C'è successo? Eh, creeper. Ah, che botta! C'è il bastardo! Cosa? Ah! Che è successo? Eh, c'è uno scheletro di quelli schifosi. Triggeralo te, triggeralo. Bravo. Ho delle frezze ora. Hai delle ossa? Ho anche delle ossa. Beh, cerca un cane. No, questo è il confine. Siamo al confine. Ah, ma allora vuol dire che... Aspetta! Allora vuol dire che qui vicino c'è quello delle arcieri. Siamo qua. Non credo. No, perché quello degli arcieri era un po' nell'entroterra, se ricordi. Non mi ricordo niente. Allora, ragazzi, se il mio orientamento è giusto, allora di là, verso di qua c'è il pacco regalo. E invece a dritto c'è il centro. Sì, di qua c'è il centro. Ok, perfetto. Allora andiamo verso la baita. Per me ci dai pacco, però. Verso la baita? Va, vai, andiamo... Vediamo un po'... Scusate, perché io non posso dire parolacce? Me lo spiegate. Le parolacce sono il colore delle parole. No. Allora, inseditevi voi un cappero di bifo. Pensami così. No. Insedire il pele. Ma guarda che quello di sicuro, io leverò tutto, anche le parolacce che avete detto voi prima, e mi ha detto b, 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 b. Eh, sono ricrasciato, che bello! E vai! Allora, ce la possiamo fare... Sento gli altri, sento gli altri. Ah no, è l'eco, è l'eco. Non urlare, no, no. O piano, piano. Cioccolata calda. Cioccolata calda. Questi episodi è diventato un ASMR. La cosa che diremo agli altri, ragazzi, non attacca, ci abbiamo la cioccolata calda. Ehi, lo voglio un po' di porco. Sono io e te. No. No, cosa fai? Devo montare tutto qui. Aiuto. Signora Pecora, ci aiuti, arrivederci. Ma perché ho fatto un balzo strano? Ma qui si risale. Qui si rizzucca. Allora, laggiù c'è la baita, ragazzi, andiamo verso la baita. Ma sei sicuro? Sono sicurissimo. Sei sicurissimo. Adesso arrivo sul centro. Talmente sicuro, così tanto sicuro che ho tutta la vita piena. Eh, proprio. Oh, casetta, baita, baita, tra l'altro lato. Vedi? Vedi? Vedi che non ho mai un credito. Vedi? Vedi? Hai ragione a te. Ma sai, non è che ispiri molta fiducia? Ah, perché? Vuol dire che mi butto giù? No, 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 no. Dove siete? Non lo so, uno che gli piacciono i funghetti, non è che... Perché io ci vedo lungo, ci vedo. Dì. Jack è tornato, forse. E riettornato, la, 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 la. Mi dispiace, ma io ogni per tre crasho e non so perché. Quindi io mi sa che smetto di registrare. Ah, scusami. Ragazzi, ma c'è qualcuno? Dove? Alla baica. No, aspetta. C'è un inizio. Alpin customer. Non tiene. Ma ganso. Però non va. Salve, fa. C'è di nuovo. Occhio che non ci siano nemici in giro. Vabbè, ma li sentiamo, cazzo dico. Ma, regà, li sentite, sì, spero. Sì, sì, comunque. Ah, ti dà le cioccolate? Non c'è venuto nessuno qua? No. Vabbè, un po' di legno. Completamente a caso. Lever? C'è una leva. Dentro la cornacea? Che ti dà lui? Che ti dà? Vado sopra. Ma è roba interessante, però. Altra cassa, pane. Attenzione. Eh. Cassa, pane, 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 pane. Cioccolata calda. No, non è cioccolata calda. No, non è cioccolata calda questa. Curse of Vanishing, Leaf, Letty, è il caso di portarsi? No, non possiamo dormire. No, sì, no, Letty no, Letty no. Non credo proprio. Ma, sinceramente, era molto molto buono il due di oro. No, sì, due di oro per un... Uno zaino. No, una cassa, che cazzo dico? C'è un Curse of Vanishing. E in tutto questo... Cosa c'è? E ci servirebbe... Perché vedo robe... Cosa c'è un blocco di ferro? C'è un blocco di ferro? No, è un blocco di quarzo, mi sa. Sì, è un blocco di quarzo. Ok. Cavolo, no, vabbè, ragazzi, abbiamo avuto sfiga, non c'è niente. Vabbè, meglio che niente. Perché non è venuto nessuno. Ok. Airdrop! Dove? Ho visto un airdrop. I miei occhi da elfo vedono gli airdrop. Vediamo un po' se... Eccolo là, te boia, andiamo a prenderlo, bimbi. Andiamo... Io comunque, raga, non faccio il cretino, ma non so più registrando, devo vedere se crash ancora. Ciccia, TNT... Oh, buona la TNT. Flint. Pecci. Stringhe. Oh, iniziano... Eh, vabbè, solite robe. Iniziamo a eserci cose carine. Attenzione, attenzione. Ma che diamantino. La cioccolata calda. A sto punto vi faccio un conflint still. Non leggo la cioccolata calda. Comunque, allora, cioccolata calda... Qualcuno vuole la TNT? Lo so perché. No, io non la so usare, faccio solo disastri. E' un po' di mino in generale. Se vuoi provare. Esatto, esatto, esatto. Dove provare la calda calda? Io ho anche un libro con Projectile Protection, non so se vi può servire. Vabbè, io te la choccoli, eh, se se la vuoi. Allora, ragazzi, allora, fermi tutti. Sì. Siamo alla baica. Sì. Ok? Siamo al quinto episodio, mi sembra. Sì. Sì. E sono sette episodi. Sì. Ok. Quindi, o si va al rifugio, Vetta. Al centro. Però è vicino al rifugio, il rifugio Vetta. Scusa, è vicino al centro, il rifugio Vetta. E andiamo al rifugio Vetta, dai. Eh, andiamo lì. Alla Bedrock Cave. Che è la cosa più pericolosa che c'è nella mappa, però lì si trova ogni ben di Dio. Andiamo, andiamo, andiamo. Bedrock Cave. Andiamo, prendono a schiaffo uguale. Ok, però attenti che bisogna passare... Eh, siamo, diciamo, un po' nel mezzo, eh. Noi ci si incontra qualcuno. Silenzio e poi gli spacchiamo la testa. Eh, sì, sì, abbiamo solo quella lì. Allora, la direzione qual è? È di là, di là. A dritto, a dritto. Ok, ok. Ok. Dietro questa qui, però, ora, attenzione davvero, perché potremmo vedere chiunque. Sì, eh? C'è un'armatura. Oh, cos'è quella cosa sua? C'è un'armatura. Cosa? Un'armatura incantata. E andiamo. Oh, leccami la... Piglialo, piglialo. Che sei detto? Leccami. C'errivo io. Piano, piano, piano. Vediamo cos'è. Vediamo cos'è. Vediamo cos'è. C'è una maledizione intorno. Ci sono le barriere? No. No, no, no. Aspetta. Hai avuto la mia stessa idea? Vai, vai, vai. Bravissimo. Lei voglia, lei voglia. Io sto guardando. No, c'è anche lì sopra. No. E che cazzo è sta cosa? No, è tutto... Ma... È tutto chiuso. È tutto chiuso. No, che troll. Ma che bastardi. Vabbè, comunque questa... Ah, ho paura. È sembra la Bedrock Cave, quindi. Domanda, scusate. Vai. Queste sono barriere, giusto? Sì. Le barriere sono indistruttibili? Non lo so. Aspettate, ragazzi, che faccio la foto di copertina. Questa è la foto di copertina. Levatevi dietro, levatevi dietro, levatevi dietro. Sposti, Jack. Sposti, 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 sposti. Jack, volevo provare quella cosa che hai in mano. Ok, proviamo con questo? Vai, vai. Abbiamo un accendino. Fine episodio 5. L'accendino lo facciamo. Fatevi un accendino. Perfetto, perfetto. Ho fatto l'accendino. E... Vai. E dunque, ragazzi, ci finisce qui il quinto episodio dell'UH Christmas. È un episodio interessante. Finalmente abbiamo iniziato a ingranare, secondo me. Abbiamo trovato un'armatura in diamante tutta incantata sulla cima della montagna, protetta da delle barriere. Riusciremo a farla nostra? Beh, lo scopriremo solamente nel prossimo episodio. Detto ciò, ragazzacci, come sempre, se vi è piaciuto il video, vi è piaciuto lasciare un like, un commento, a condividere questo video. Quanti passi sono? Se vi è piaciuto in descrizione, se non siete ancora fatti, iscrivetevi al canale. Da un abbraccio! Pronto per la boffata natalizia. Un salutone e un abbraccio. E alla prossima, gente. Ciao, ciao! Ciao, ciao!